3-1-0-6-75 stavendo stamattina da Massimo Rigorio nella categoria C Vai Donato, cercheremo di passare il tempo Ricordiamo ancora una volta che Donato è il vincitore delle precedenti set Ginkane in programma quest'anno nel 2014 E' il vincitore degli ultimi 8 campionati Ginkane-Puglia Ed è anche quest'anno il primo in dotatoria Se dovesse vincere quest'oggi porterebbe a casa il nono, e ripeto, nono titolo consecutivo E guaglierebbe il suo stesso record di vittoria in una singola stagione stabilito nel 2010 Sono tanti, tanti racconti, ma adesso ne potrebbe scrivere un altro Donato Argentiero Sua sua Fiat 127, già in fase di rientro Tempo da battere, 1-0-6-75 Velocità di punta, boa, su e là, distra, Fiat 127, alla scena 0, 0, 5 e basta